Raffaele Cantone, magistrato per otto anni alla direzione distrettuale antimafia di Napoli, il magistrato che ha fatto condannare Sandokan e gran parte dei vertici dei casalesi nel processo Spartacus. Lei lega la corruzione e la mala politica alla forza delle organizzazioni criminali, perché? Io leggo anche la corruzione e la mala politica alla forza delle organizzazioni criminali, ovviamente non dico affatto che la corruzione sia collegata soltanto a questo fenomeno, faccio un discorso opposto, cioè dico che dove le pubbliche amministrazioni sono caratterizzate da fenomeni di malaffare, di corruzione, la criminalità organizzata è quella che ha maggiori strumenti per approfittare, perché oltre ad avere grosse disponibilità di somme di denaro ha anche in più qualcos'altro, cioè la capacità di intervenire attraverso la forza di intimidazione e la violenza. Lei ha affermato che non basta l'attività di repressione per combattere le mafie, cosa bisogna fare per combattere le mafie? Io credo che non basti l'attività di repressione ed è dimostrato da quello che sta avvenendo in questo periodo, se in questo periodo ci sono stati risultati eccezionali nelle lotte alle mafie dal punto di vista repressivo, abbiamo tutti però, soprattutto i cittadini meridionali, la consapevolezza che il fenomeno non è vinto ed è la dimostrazione che da solo all'attività repressiva non basta. Io credo che ci sia bisogno d'altro, ci sia bisogno prima di tutto di interventi sul piano educativo e culturale, ci siano bisogno di interventi sul piano economico, perché ci sono intere realtà abbandonate completamente dallo Stato senza più lavoro e ci sia bisogno anche di spezzare quei legami che c'è fra criminalità organizzata e impresa e criminalità organizzata e politica, che è il vero, secondo me, punto di forza delle organizzazioni mafiosi. Lei ha affermato che non c'è lezioni su cui non cali l'ombra dell'inquinamento criminale, è affermato anche dopo Tangendopoli, politici e mafiosi sono diventati spesso la stessa persona e diventa difficile per i cittadini a questo punto. Io ovviamente quando faccio questo discorso ho fatto un discorso in un contesto che è ovviamente soprattutto un contesto meridionale e dico che purtroppo nelle indagini fatte c'è sempre il tentativo della criminalità organizzata di inserirsi e insinuarsi e di cercare di spostare il pendolo da un lato piuttosto che dall'altro. E questo lo dico soprattutto con riferimento alle elezioni locali, che sono quelle di maggiore interesse della criminalità organizzata. Quanto all'identificazione in unica persona di politici criminali e di imprenditori, si tratta di un'emergenza che purtroppo si sta verificando in qualche caso nelle più recenti indagini della direzione estretuale antimafia. Ovviamente stiamo parlando di situazioni che sono eccezionali ma che sono preoccupanti perché rendono ancora più confuso la percezione di ciò che avviene. Lei descrive un'Italia spaccata, da una parte l'anticultura che dà consenso alle mafie e dall'altra l'attivismo civico di chi vuole trasparenza e giustizia. Basta la cultura della legalità per unire il paese? Ma se ci fosse una cultura della legalità che si è presente in tutto il paese, secondo me sarebbe un buon collante. Sicuramente non basta ma sarebbe un buon collante. C'è un dato che purtroppo questa cultura della legalità non c'è. Perfetto. Senta, lei parla anche di colletti bianchi. Qui a Serne è stato un suo collega Luca Tescaroli che ha scritto un libro Colletti sporchi. Nell'incontro ad Iserni ha affermato che chi serve lo Stato diventa un loscuo figuro e il mafioso diventa un eroe. Lei è d'accordo con questa affermazione di Tescaroli? È un'affermazione paradossale. Nel senso che in qualche realtà rischia di crearsi una sorta di capovolgimento. L'obiettivo degli interventi educativi sta anche nel far capire dove stanno i buoni e i cattivi. Ritorniamo per un attimo al processo Spartacus. Grazie a Roberto Saviano questo processo viene conosciuto dall'intero paese e da molte persone grazie al suo libro. Dal Teto il procuratore della DDA di Campobasso qualche tempo fa disegna affermato che Roberto Saviano è il Siani moderno. Lei condivide? Questi paragoni sono sempre paragoni pericolosi. Giancarlo Siani è morto quindi fare i paragoni con il morto sono sempre pericolosi. Ma capisco quello che voleva dire Armando D'Alterio a cui fra l'altro mi legano sentimenti di amicizia e stima. Lui dice una cosa importante cioè Siani nel suo periodo fu uno dei pochi che cercò di indagare su una camorra dimenticata quella della provincia. E in questo senso ci sono sicuramente delle affinità con Saviano che si è occupata della camorra dei Casalesi che fino a quel momento era una camorra assoluta e sconosciuta. Dottore per concludere lei sul mattino ha scritto per quanto riguarda gli elementamenti del ministro della giustizia in tema di corruzione ha scritto dopo una così lunga attesa il bicchiere portato a tavola è chiaramente mezzo vuoto e c'è il rischio leggendo le reazioni di una parte della politica che nei lavori parlamentari esso sia svuotato del tutto. Sì perché a vent'anni diciamo dopo una lunghissima attesa di una nuova legislazione antimafia il discorso dopo le promesse, dopo le premesse e le promesse che erano state fatte dal ministro ci si attendeva qualcosa di più. E fra l'altro questo testo che è già oggetto di un pesantissimo meccanismo di compromesso non è neanche accettato da tutti e quindi il rischio che questo testo che già di per sé non sarebbe risolutivo rischia di essere ulteriormente annacquato. Io ribadisco quello che ho sempre detto con grande franchezza se non c'è un testo di spessore e di rilievo è meglio non farla una nuova legge sulla corruzione per evitare che ce la dobbiamo tenere per altri vent'anni.